Dopo mesi di corteggiamento e settimane di trattative, ora è davvero ufficiale. Con il classico benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli. Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte, le dichiarazioni del patron riprese dal sito ufficiale del club. Antonio è un top coach, un leader con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno. Dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano, oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli, a concluso De Laurentiis. Non poteva mancare la replica dello stesso Conte. Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa, farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale, le prime parole del tecnico pugliese ai canali ufficiali della società azzurra. Come raccontato nei giorni scorsi, Conte si legherà al Napoli per tre anni, contratto fino al 2027 a 6 milioni netti più bonus legati a Champions e Scudetto. L'allenatore nato a Lecce non allenava in Italia da tre anni quando lasciò l'Inter nel 2021 dopo aver vinto lo Scudetto. L'ultima esperienza in panchina a marzo 2023 con il Tottenham. L'allenatore nato a Lecce non allenava in Italia. L'allenatore nato a Lecce non allenava in Italia.